Sei pronta? Buongiorno a tutti i nostri collezionisti, l'ultima arrivata nella scuderia Life Art Gallery il maestro Luigi Pilato, gli abbiamo chiesto di fare su una parete un'opera dalverda, iperrealista usando i suoi materiali che sono sempre gli stessi, il cartone, merce da risulta, con l'aiuta senza perdere però il suo tratto da disegnatore, quindi facciamo vedere Loredana che poi c'è sempre la manualità di un artista. La performance volverà verso un volto conosciuto del cinema qua è la Mary Moreau, per non perdere poi dal punto di vista della nostra società Life rimane sempre un marchio americano, noi vogliamo portare il media di Italia in America e lo facciamo grazie ai nostri artisti, quindi nascerà qua questa opera però arriverà poi oltre oceano ai confini americani dove abbiamo una parte del nostro collezionismo che si sta documentando.